Noi veniamo da un stato violento di maltempo, domani arriverà anche la prima neve nell'introterra del Savonese, siete preoccupati sul fronte ferroviario? Siamo preoccupati non sul fronte ferroviario, siamo preoccupati naturalmente come Regione di Gura, come protezione civile. Penso che l'esperienza del passato abbia insegnato e quindi sul fatto che regga il sistema dei trasporti con gli ultimi accorgimenti fatti per l'inverno 2019-2020 ne sono molto fiducioso. Naturalmente la guardia domani sarà ancora più elevata per evitare che, non dico rallentamenti, ma che disagio ai passeggeri si possano presentare in forma massiccia.